Buongiorno e ben trovati In questa edizione di Mattino 6 Venerdì 9 febbraio 2018 Sempre più nel vivo la campagna elettorale In vista delle politiche Del prossimo 4 marzo Si susseguono gli appuntamenti anche in Abruzzo E anche la giornata di ieri è stata davvero particolare Perché nella nostra regione è arrivato il leader della Lega Salvini Vedremo tra poco anche un estratto dell'incontro Che ha tenuto ieri sera a Colonnella Ma sono stati tanti altri gli eventi Che hanno caratterizzato la nostra regione ieri Li vedremo sfogliando le pagine dei giornali Anche rivedendo alcuni dei servizi del Tg6 Iniziamo la nostra rassegna Con le prime pagine dei quotidiani locali Partiamo con le quattro edizioni del centro Qui siamo su quella pescarese L'apertura gratta e vince 2 milioni di euro A pescare il colpo messo a segno nella tabaccheria della stazione Sotto la testata assistenza in Abruzzo Fondi alle famiglie dei piccoli malati Ammesse le prime 20 richieste Poi filo diretto con l'Inps Se di nido 1000 euro per ogni bimbo A chi spetta e come fare le domande Vediamo al centro pagina Trasporti Buffera politica sulle assunzioni alla società tua La fotonotizia al centro Riconoscimento del reparto pescarese Ospedale dermatologia eccellenza d'Abruzzo E poi di spalla la polemica a Pescara Nomina degli scrutatori Il sorteggio non si fa A Francavilla al mare Incidente al Mumi Cancellata la mostra E poi i funerali Oggi di Bruno Pace L'addio a Bruno Pace Oggi a San Cetteo Il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna L'uomo solo al comando della nostra vita Vediamo ora l'edizione aquilana del centro Ecco il titolo d'apertura Il comune fa cassa con le multe All'Aquila un milione di euro nel 2017 Mannetti Avremo più agenti E poi la fotonotizia con il periodo di carnevale Le feste che dunque impazzano Carnevale tra pupazze e bambini in maschera Di spalla il comune di Avezzano La corte costituzionale per salvare De Angelis Poi l'allarme a Celano Chiude la RSA Pazienti da trasferire E poi lutto a Pesca Seroli Noto maestro di sci Muore a 63 anni Continua il festival di Sanremo Grande successo E Claudio Inteso come Claudio Baglioni Fa coppia con Virginia E James Duetta Con Giorgia Avanti ancora Siamo all'edizione terramana del centro L'apertura carabiniere Poliziotto a processo Giro di droga sulla costa terramana Rinvieti a giudizio insieme ad altri sette E poi la fotonotizia Folla per Salvini Punto molto Sul Abruzzo Il leader della Lega A Colonnella E poi di spalla A Terramo Rivoluzione al Mazzini Il pronto soccorso diventa telematico In Val Vibrata Alba E Tortoreto Il gruppo Minerva Verso il fallimento E poi il caso giudiziario Processato E assolto Per i soldi Faximile L'edizione di Chieti Investita Muore Dopo tre giorni di agonia A Chieti Non ce l'ha fatta L'anziana travolta In centro Da un'auto Pirata E poi In basso La fotonotizia La medesima Dell'edizione terramana Con il leader Della Lega Salvini E poi di spalla Chieti L'inchiesta Transa Coltellata Ecco I messaggi Del dentista Ad attessa La sentenza Seve L'operaio Riassunto Licenziamento Ingiusto Al comune Di vasto Rimpasto Di giunta Lo scoglio Delle deleghe E ora Vediamo la prima pagina Del messaggero Abruzzo Ecco L'apertura Il PD Riaprire Corso Vittorio Il gruppo consigliare Sì Ai bus Sulla strada Parco Con deviazione Sull'area di risulta Contrario L'assessore Civitarese Il sindaco Lessendrini Approfondimento Tecnico E poi Una serie di Richiami Sotto La testata Acqua Chiara Gran Sasso Il rebus Delle mancate Autorizzazioni Bussi Al via La bonifica Dei rifiuti tossici Veleni Sotto i teli Poi la rimozione Per lo sport Serie B Pescara Il ritorno Di Fiamozzi Puntiamo tutto Sui playoff Il difensore Soddisfatto Mi fa molto piacere Essere di nuovo qui Certo di aver lasciato Ben ricordi In attacco Rientra Mancuso Vediamo ora di spalla Equivoci Salvano un cane Ma il buon cuore Dell'escursionista Diventa un fake La foto su Facebook Per trovare i padroni Viene scambiata Per un falso Andiamo ora A centropagine Intanto con la Fotonotizia Diffonde il video Hard Con l'amante Abbasto L'uomo indagato Il PM Ricatto per tenere In pugno La vittima Sempre in taglio medio Bertolaso Assolto Il centrodestra Esulta L'Aquila Palti del G8 Forza Italia Dopo la sentenza Siamo contenti La nostra città Gli deve molto E quindi In basso Pescara Città In lutto Per Bruno Pace Come detto Oggi Alle 14.30 Nella cattedrale Di San Cetteo I funerali Vediamo ora La prima pagina Il quotidiano Della provincia Di Teramo Ecco l'apertura Nessuna sicurezza Nei laboratori La rivelazione Del forum Delle acque Tutti scaduti I documenti Necessari Per le emergenze Sotto la testata Sanità Bocciato Di nuovo Il centro Di fecondazione A Roseto Dalla relazione MEF Spunta Un esposto E poi La foto Notizia Più che Mastro Mostro Porchettaio Processo Perché Violentava La moglie E lasciava I figli Senza Cibo La politica Di spalla Quagliariello A Teramo Abbiamo un progetto Di classe dirigente Per questa città E questa foto Lo ritrae Con l'ex assessore Regionale Mauro Di Dalmazio E poi Salvini A Colonnella Manderemo a casa Anche il PD Abruzzese In basso Droga E armi In nove A processo Rimiete giudizio Anche un poliziotto E un carabiniere E poi Sempre A piedi pagina Giulianova Cinque Denunciati Per il corteo Anarchico Sul campetto Occupato Lasciamo Ora le testate Locali Andiamo a vedere Le prime Nazionali Partendo Dal Corriere Della Sera Ecco qui L'apertura Macerata Tensione Sui cortei Destra e sinistra Radicale Comunque in piazza Scontri Con forza nuova L'autopsia Su Pamela Un colpo in testa Prima di morire L'attacco di Salvini All'Islam Poi Sotto La testata Ecco qui Intanto Stasera A Sanremo I soar di al festival Io in sala Con Matteo Matteo Salvini Ovviamente Poi Leggiamo anche Questo titolo Sulle olimpiadi Invernali Via Ai giochi Una bandiera Per due coree E Kim Fa sfilare I soldati Con i missili E poi La foto Notizia Che leggiamo A centropagina Un anno Per decidere Di rivelare Di rivelare il mio Cancro La storia Quella della super manager Di facebook Ora mi sento felice Lei è Nicola Mendelssohn 46enne Vicepresidente per Europa Medio Oriente E Africa Di facebook Andiamo ora A la repubblica Ecco L'apertura Dedicata alla politica La sinistra Si spacca Anche su macerata Renzi Io con Minniti Leo In piazza domani PD E ampia Roma Il 17 Rimborsi Lasciano altri due Onorevoli Dei 5 stelle La foto Notizia Leggiamo In basso Iran Russia E Turchia Contro Trump Nasce in Siria Una triplice Alleanza E poi Ancora In basso Il piano Americano Per Italo Invadere le ferrovie Europee Con i treni Veloci E low cost L'acquisizione Della compagnia Privata Italiana E poi Ancora La sentenza Palti Della cricca Dopo 8 anni Il tribunale Assolve Guido Bertolaso Studio In inglese Gli animali Esperti Di matematica Che sanno Contare Meglio Di noi La prima Pagina Della stampa Ecco L'apertura Salvini Shock Islam Incompatibile Con i nostri Valori Sondaggio La paura Dopo Macerata Non sposta La scelta Degli elettori Berlusconi E Berlusconi Vuole Tajani O Gianni Letta A Palazzo Chigi E poi La fotonotizia Allarme Siccità Il sud Ha già sete A gennaio Precipitazioni Diminuite Di un terzo Palermo E in emergenza E poi In basso I raid Di Trump Nei cieli Della Siria 100 morti Tra le truppe Di Assad Dagli Stati Uniti Un avvertimento A Russia Iran L'ira di Putin Volete Il greggio Avanti Ancora Siamo con il sole 24 ore Ecco L'apertura Industria 4.0 Accelerano Gli investimenti Più 11% Boccia Le imprese Hanno reagito Rafforzare Le riforme Nel 2018 Formazione In 4 aziende Su 10 Gentiloni Impulso Dai 9,8 miliardi In manovra E poi In basso Nuova Caduta Delle borse Pesano Timori Di rialzi Fed Piazza Affari Cede il 2,26% In forte calo Anche Wall Street E poi ancora Il fatto Quotidiano L'apertura Dedicata Alle parole Del procuratore Caffiero Derao Pugniamo Chi candida Indagati Gli elettori Non votino I partiti Che hanno liste Lontane dall'etica Il procuratore Nazionale Di mafia Fatto Sugli Impresentabili Poi ancora Vediamo Sotto La testata I fatti Di Macerata Sinistra In pezzi Il governo Vieta il corteo Ex Sell E fiom In piazza Contestazioni Dem Sul web Anche per il Ministro Dell'interno Minniti Avanti ancora Cambiamo testata E siamo al Manifesto Interno Notte Ecco L'apertura Del manifesto Con una foto Del ministro Minniti Fermi Tutti Fascisti E antifascisti Sono uguali Per il ministro Di polizia Intanto Forzanova Va in piazza E monta Il dissenso Inampi Arci E CGL Che hanno deciso La retromarcia Noi a Macerata Ci andremo E il corteo È confermato Poi in basso Razzisti Nel paese Dove si nasce Meno Per l'Istat Nessuna Invasione In Italia Immigrazione Stabile All'8,4% E ora siamo Al messaggero Che apre così Crollo Delle nascite Il caso Lazio Nel 2017 Flessione Del 7% Media nazionale Del 2% Nella regione Il più forte Calo demografico Deboli Le proposte Dei partiti Contro le culle Vuote Sconti fiscali E pannolini Con IVA Agevolata E poi Sotto la testata Oggi Via ai giochi Invernali Le due coree Sfilano sotto La stessa bandiera Contatti segreti Stati Uniti Cina E poi In taglio medio Intanto la foto Notizia Con l'Italia Di Baglioni Il ciclone Virginia Raffaele Scuote il festival Moro e Meta Riammessi Incanta James Taylor Il successo Del presentatore Che guida Sanremo In punta Di piedi E poi Sempre in taglio Medio Macerata Il corteo Spacca la sinistra Timori per gli scontri Stop del PD Sì sulla manifestazione Antirazzista Maleo sarà in piazza Pamela Nuova ipotesi Delitto In basso Condannato Balducci Gli appalti del G8 Bertolaso assolto E il mio Riscatto Avanti Siamo al tempo E riprendiamo Proprio Da lì Un uomo Per bene Titola Il tempo Assolto Dopo 8 anni Di gogna E la carriera Rovinata Guido Bertolaso Scrive Al tempo Ora parlo io E poi in basso Pugnalata Che era viva L'autopsia Su Pamela Corpo Sezionato In modo Scientifico E ora Libero Con L'apertura Meno Galera Per tutti In arrivo La riforma Penitenziaria Niente Cella Per i condannati Fino a 4 anni Sconti Ai recidivi E permessi di lavoro Ai detenuti Clandestini La Lega Protesta Berlusconi Soldati in strada Finché la gente Non smetterà Di avere Paura Ed è festa grande Nelle carceri Italiane Anche Libero Dedica La fotonotizia A Sanremo Puntando L'attenzione Su Michelle Unziker Michelle La fidanzata D'Italia Mattatrice A Sanremo Chi vuol criticarla A tutti i costi Sa solo Rimproverarle Di sorridere Troppo Avanti Con la verità In un solo Hanno perse Le tracce Di 132.000 Immigrati I dati Istat 2017 Confermano Che il fenomeno Non è governato Un esercito Di stranieri Prima registrati Si è dato Alla clandestinità Campano Di lavoro nero O di attività criminali Lo Stato Non sa nulla Di loro Finché non Succedano tragedie Come quella Di macerata Poi la fotonotizia L'esame Di cerno Con il professore Senza laurea Promosso da un suo amico Che non aveva i titoli Il condirettore Candidato Dovette ripetere La prova E poi In basso Studenti schiavi E la Fedeli Non controlla Il ministro Ammette il flop Dell'alternanza Scuola-lavoro Ma poi firma accordi Con McDonald's L'avvenire Ecco L'apertura Senza Bambini Un paese In panchina Nuovo record storico Negativo Delle nascite 464.000 Mentre crescono Le morti 647.000 E l'età media Sale a 45 anni Politica Alla prova E poi In basso Damasco I raid Dei caccia USA Infiammano la Siria Colpite le truppe di Assad Oltre 100 Le vittime Rapidamente Vediamo anche Gli ultimi titoli D'apertura Questo del secolo XIX Salvini PD Scontro sull'Islam Il leghista Incompatibile Con i nostri valori Idem Così si mette in pericolo Il paese Infine Il mattino Con Questa apertura Cortei antirazzisti Sinistra divisa Leual Governo Pericoloso Vietare La piazza macerata Il PD Sia una manifestazione Nazionale Centri sociali Il movimento Di De Magistris Si Ampi Il FIOM Sfideranno lo stop Rischio scontri Con l'estrema Destra Lasciamo la rassegna Delle testate nazionali Torniamo ora Alle testate locali Siamo di nuovo Sul centro A pagina 3 Fondi Ai piccoli malati Primi interventi 20 famiglie Con bambini Ammesse Della gradatoria Regionale Per altre 8 Occorrerà Trovare Nuove risorse Le parole Dell'assessore Sclocco L'impegno Dell'assessorato È massimo E per il 2018 Si lavora Per rispondere Al più alto Numero possibile Di richieste Le parole Anche Del papà Della piccola Noemi Sciarretta Andrea Abbiamo raggiunto L'obiettivo Iniziale Il nostro impegno Continuo Anche se lo scoglio Più grande È proprio Quello Dei soldi Poi ancora In basso Resto al sud Dall'Abruzzo Presentate 349 Domande Di incentivi Per l'imprenditoria Giovanile Poi in basso Assunzioni Alla tua E bufera elettorale Rolandi Della filta CGL Sono solo mance Critiche da Forza Italia E 5 Stelle D'Alessandro Del PD Polemica Politica Avanti E siamo A pagina 12 Verso il voto Del 4 Marzo Salvini Punto Molto Sull'Abruzzo Il leader Della Lega Colonnella Presenta la squadra Dei candidati Il libro Di Bagnai Lo proporrò Come testo Sulle scuole Ringrazio I comuni Però a livello Centrale Di governo Regionale C'è Totale Assenza Qui vediamo Alcuni degli scatti Della visita Ieri a Colonnella Di Matteo Salvini Che andiamo Ad ascoltare Io punto Molto Sull'Abruzzo Sono contento Di tutti I candidati E le candidate Che abbiamo Schierato E penso Che l'Abruzzo Possa fare La differenza Per la Lega E per il Centrodestra Siccome Si vincerà Ma magari si vincerà Di poco Mi piacerebbe Che l'Abruzzo La scelta Degli abruzzesi Fosse fondamentale Per dare all'Italia Un governo Di centrodestra Con una Lega Delle regioni Delle regioni più belle Che ci sono in Italia Il centro Italia Che sono massacrati Dall'incapacità Della sinistra Problemi di sanità Con ospedali Chiusi O in difficoltà Problemi di trasporti E infrastrutture Con alcune città isolate Del resto del mondo E poi problemi Di ricostruzione Io ringrazio Le amministrazioni locali Come l'Aquila Che si stanno Dannando l'anima Però a livello Di governo centrale E a livello Di governo regionale C'è una totale Assenza Lontananza Incapacità In tutte le zone Colpite dal terremoto Quindi 4 marzo Si vince in Italia E poi La prospettiva È di mandare a casa Il PD Anche dall'Abruzzo A livello regionale Sempre sul Sul centro Gran Sasso Violate la legge Grandi rischi Il movimento per l'acqua Nei laboratori Sono state stoccate 2.300 tonnellate Di sostanze Pericolose Ora Le pagine Della cronaca Di Pescara Gratta E si porta A casa 2 milioni E la fortuna Dunque Baccia Pescara Ad esploare Alla tabaccheria Della stazione L'ignoto vincitore Ha speso 10 euro Per un tagliando Della categoria 5.0 X Avanti Ancora E con le parole Del titolare Della tabaccheria Spero che si tratti Di un pescarese Che si faccia vivo E che si ricordi Di noi E poi In basso I sogni Viaggi E futuro Garantito per i figli Come cambierebbe la vita Secondo gli appassionati Dei grattini E c'è chi Rottamerebbe Tra virgolette La moglie Avanti ancora Verso le elezioni Scrutatori Nessun sorteggio Il regolamento Messo da parte Oggi La nomina Dei 680 L'assessore Di Carlo Saranno favorite Comunque Le classi Svantaggiate Ma il Movimento 5 Stelle Insorge Dopo il caso Scoppiato per il referendum I nomi vanno Comunque Estratti Le incompiute In Taglio Medio Via Tronto I lavori Possono ripartire Un'impresa di Roma Competerà i 64 appartamenti Fermi Da diversi Anni E avanti ancora E siamo a pagina 16 Con Questo capitolo Di sanità Che va bene Che funziona Dermatologia Di Pescara E la migliore D'Abruzzo Il reparto Dell'ospedale Premiato Dalla piattaforma Specializzata Death Morning Effetto a 450 Interventi chirurgici All'anno Per rimuovere Tumori Della Pelle Avanti ancora E siamo a pagina 17 Morto Spartaco Amoroso Fondatore Dell'Archeoclub Scomparso a 96 anni L'ex docente Di francese Cultore di archeologia E preistoria Fu tra i promotori Del primo nucleo Del Museo delle Genti Oggi Addio Ai Colli Avanti E siamo a pagina 18 Caos Al centro Per l'impiego La regione Non c'entra Il direttore Del Dipartimento Risorse La competenza Ancora della provincia Ma i disagi Continano L'ira di un cittadino Computer in tilt E senza Personale La politica A centropagina Ecco qui Diodati Esce di scena PD Gestione Padronale L'ex assessore comunale In una lettera Sfogo Ai segretari Annuncia la sua Sospensione Dal partito E siamo A pagina 19 Con le iniziative Di questi giorni Di festa Ecco qui Piazza Salotto Mascherine E flash mob Degli innamorati Iniziativa per carnevale Domani e domenica Animazione Giochi per i bambini A San Valentino Bacio collettivo Di un minuto Reading letterari E poesie D'amore Poi di Spalla E a Pescara Vecchia Le feste tradizionali Di Abruzzo Ed Emilia Appuntamento Per il 13 febbraio E mettere insieme Gli show Di Perano Benedello E Torre Vecchia Teatina La pagina Di Montesilvano Pini Tagliati In un sito Privato E polemica Abbattuti Cinque alberi A due passi Dal comune In una zona Dove c'è solo cemento Straccini Dei Cinque Stelle Non è vero Che sono Malati E poi In basso Ente di bonifica Lite da 2,5 milioni Di euro H Ato E Considant Ricordano Contro la condanna A pagare E chiedono Il coinvolgimento Dei comuni A Spoltore Cooperative Di comunità Un nuovo modo Per tutelare I borghi Giornata di studi Promossa dal comune Di Sportore Con CNA Sulle opportunità Di finanziamento Alle piccole Imprese Poi In basso Dieci quintali Di cibo Dalla Befana Del vigile Depositate Nella casa Della solidarietà Le derrate raccolte Grazie agli operatori Della polizia Locale A Francavilla Invece Infortunio Al Mumi Mostra Cancellata Si indaga Sulle cause Dell'incidente Del Sul Lavoro Ancora In pronunio Si è riservato Il 61enne Caduto Da una scala Avanti ancora Siamo a Cappelle Sul Tavo L'area del Cartodromo Ceduta Una ditta Di Montesilvano Prosegue La vendita All'asta Dei beni Della provincia Per ripienare I conti Dell'ente Il sito Di Cappelle Era stato Affittato Fino a qualche Mese fa A un circuito Di go-kart Avanti Cambiamo Provincia Siamo ora In provincia Di Chieti O meglio Proprio a Chieti Città Con questo Incidente Che viene raccontato Dal centro Travolta Dall'autopirata More anziana Pensionata Di 80 anni Colpita In via Dei Vezzi E deceduta Dopo tre giorni Di agonia Caccia Una macchina Ripresa Dalle telecamere E poi Di spalle In via Signo Aereo Strisce pedonali Fantasma Coperto Il tratto A rischio In basso Conto Alla Rovescia Per spostare Lato Velox Domani a Brecciarola Il sopralluogo decisivo Di vigili urbani E della ditta Incaricata Trasferimento A breve E poi Il fatto di Cronaca Di questi giorni Il festino Di Chietiscalo Qui è un casino Ho fatto un macello Il dentista Lascia il carcere Dopo quattro giorni E va ai domiciliari Ecco i messaggi Dopo le coltellate Alla transe Tutto sporco Di sangue Parlano Gli avvocati Dello dontoiatra La difesa Il racconto Della transe Sconfessato Dalle ferite Lievi Avanti ancora E siamo Alle pagine Di Teramo Ecco qui Carabiniere Poliziotto Ha processo Il giudice Li rinvia giudizio Insieme ad altri sette Il militare Di Tortoreto E' accusato Anche di Favoreggiamento Nel mirino Degli inquirenti Un giro Di droga Sulla costa E poi sempre Per la cronaca Minaccia Con il coltello La moglie E i tre figli Violenza sessuale E maltrattamenti I nauli I ragazzini E la donna Raccontano Gli anni Di paura E poi ancora Sulla costa Il gruppo Minerva Verso il fallimento Dichiarati Improcedibili Concordati Preventivi Di sé Società immobiliari Collegati I creditori Non votano Il piano Case Individuate Fra Alba E Tortoreto Avanti ancora Siamo a Pineto L'area del Vulcanello Diventerà parco naturale Accordo tra il Comune L'Università d'Annunzio Per la bonifica Del sito Sarà allestito Un percorso protetto Per i visitatori Con baccheche Informative Avanti ancora Roseto Campi inadeguati Nuove tasse Spiagge D'Abruzzo Kappa Rischio L'organizzatore Del torneo Di calcio Giovanile Che comincia Il 28 aprile E segnala Molte carenze Cerasi L'imposta di soggiorno In bassa stagione Ci penalizza Così come Lo stato Dei terreni Di gioco La pagina di Sulmona Case Parcheggio Pronte Non consegnate Emergenza Abitativa La protesta Degli assegnatari Aspettiamo da tre mesi Ora basta ritardi Gli uffici Non riescono A definire Le pratiche Le parole Dell'assessore Vella Entro fine marzo Contiamo di risolvere Se l'iter è a posto La priorità sarà data Alle famiglie Che versano In condizioni Più Gravi Ora La Siamo a pagina A 33 Con la situazione Ad Avezzano E l'amministrazione In bilico La Costituzione Per salvare De Angelis Mossa Degli avvocati La consulta Valuti la legittimità Della norma elettorale Adore La sentenza Del Consiglio Di Stato E poi In taglio Medio L'Aquila Ecco L'app Contro la droga Il bullismo L'Aquila Con You Paul I ragazzi Potranno denunciare In diretta Le situazioni Di pericolo E allora Vediamo il servizio Relativo Alla presentazione Di questa app Contro il bullismo Nella provincia Dell'Aquila Il fenomeno Del bullismo Non è un'emergenza Nel 2017 Soltanto 10 casi Che hanno coinvolto Minori Ma prevalentemente Nella marsica Allo scopo però Di poter intervenire Meglio e prima E soprattutto Andare incontro Ai giovani La polizia La polizia Di stato Da oggi È attivato All'Aquila Negli altri Capoluoghi Di regione Tranne Bolzano Un'app Chiamata YouPoll Già operativa Roma Milano E Catania Dove ha avuto Dei feedback Positivi L'app Allo scopo Di permettere A giovani Ed adulti Di interagire Con la polizia Di stato Consentendo L'avvio Di segnalazioni Di episodi Di bullismo Spaccio Di droga Con possibilità Di inviare Anche foto E video Un sistema Che garantisce La localizzazione Esatta Ed immediata Del dispositivo Segnalante Del luogo Interessato Dall'evento Anche se Questi Sono distanti Tra loro Sta diventando Un fenomeno sociale E ci preoccupa Sempre di più Ogni giorno Sentiamo Alla televisione Di fatti Di prepotenze Di violenze Nei confronti Di ragazzi Ed è proprio Per questa ragione Che gli esperti Informatici Della polizia Di stato Su Seguendo Le direttive Del capo Della polizia Hanno studiato Questa app Che oggi Vi presentiamo Anche Perché parte E diventa operativa Anche qui In Abruzzo Nel territorio Dell'Aquila E che Consentirà Di segnalare Eventuali Abusi O anche Luoghi O circostanze Che attengono A questo fenomeno Tra le opzioni C'è anche quella Che consente Di effettuare Una chiamata D'emergenza 113 O 112 Nella provincia In cui l'utilizzatore Si trova Un progetto Dei tecnici Informatici Della polizia Di stato Semplice Da usare Che consentirà Di scovare Molto sommerso Ma soprattutto Di andare incontro Ai giovani Che utilizzano Sempre più Le nuove tecnologie Per scaricare L'app Basta andare Sui classici store E gratuitamente Si potrà installare Sul proprio telefonino Dottoressa Il vantaggio Il vantaggio È un po' Di scovare Il sommerso Tramite l'applicazione In cui si può Denunciare Anche in forma Anonima Sì Il vantaggio E l'utilità È proprio questo Perché si tratta Di un reato Che ha Un numero Scuro Elevatissimo Ed è per questa Ragione Che Si è pensato Appunto Di consentire Le segnalazioni In forma Anonima In modo Tale Da poter Avviare Poi un dialogo Con Chi Segnala E Far emergere Fatti Che In qualche modo Altrimenti Non verrebbero Non verrebbero Resi noti Se non Magari Quando diventano Troppo gravi E andiamo A chiudere Con il centro Anche la prima parte Di mattino 6 Chiude Della RSA Di Celano Pazienti in uscita La direzione Dell'immacolata Carico economico Insostenibile Il sindaco Santilli Tutelare Le famiglie Allora Previsioni del tempo Poi pubblicità E poi ci ritroviamo Con la seconda parte Di mattino 6 Di nuovo Buongiorno Seconda parte Di mattino 6 Che riprendiamo Con il messaggero Abruzzo Riprendendo Dalla politica Ecco qui Strategia Strategia Nelle urne Teramo E L'Aquila Tutti In ordine Sparso Quagliariello Cialente Papola Stessi temi Soluzioni diverse Terremoto E una crisi Mai finita Dividono I programmi Dei candidati E poi La polemica Delle ultime Ore Tua La CGL Il centro-destra Assunzioni Solo uno Spot Vediamo A tal proposito Il servizio Noi ovviamente Come organizzazione Sindacale Non siamo affatto Contrari All'immissione E all'assunzione Di personale Soprattutto quando Parliamo Di buona occupazione E soprattutto Quando parliamo Di assunzioni A tempo indeterminato Come sono Le assunzioni Di operai E le assunzioni Di autisti Ovvero Operatori Di esercizio Noi siamo Assolutamente Contrari All'assunzione Di personale Amministrativo Premesso Che in Tua Ce n'è in abbondanza In considerazione Della fusione Delle tre società Regionali Di trasporto E soprattutto Siamo contrari All'immissione Di nuove Figure Dirigenziali Così come Sono state Annunciate Nella conferenza Stampa Di ieri Da premettere Che rispetto Alle assunzioni Di operatori Di esercizio Quindi di autisti E anche di operai Noi avevamo Già raggiunto Degli accordi Con l'allora Presidente Luciano D'Amico Che prevedevano Questo bando di concorso Che dovesse uscire Nel giugno Del 2016 Quindi è passato È passato Oltre un anno Un anno e mezzo E adesso Guarda caso Sono arrivate A ridosso Di queste elezioni Noi sinceramente Siamo sconcertati Dall'idea Che in questa regione C'è questo mal costume Di gestire Le società partecipate Di gestire Le società pubbliche In questa maniera Quindi Non agire In funzione Delle emergenze Delle esigenze Strutturali Che ci sono Nella società Nelle società partecipate Ma agire in funzione Degli appuntamenti elettorali Che si susseguono Nel corso degli anni Lei prima parlava Di problemi Che ci sono E che riguardano Il trasporto pubblico Locale Quali sono Questi problemi oggi? Ma il problema Più importante È sicuramente Quello della mancanza Di risorse Noi abbiamo preparato Dei dossier Dei fascicoli Che avremmo Avremmo voluto Consegnare Ai componenti Della commissione Di vigilanza Per spiegare Le ragioni Del nostro malcontento E perché stiamo Lanciando il grido L'allarme Rispetto alla mancanza Drammatica Di risorse Abbiamo fatto anche Una valutazione Di quante risorse In meno Sono state Destinate Al trasporto pubblico Locale Tra quelli tagliati Tra i fondi tagliati A livello nazionale Quelli tagliati Dal governo regionale Ed è una situazione Drammatica E ci allarma Anche in prospettiva Futura Perché sappiamo Che le prossime risorse Saranno distribuite Alle regioni In funzione Di obiettivi Di efficientamento E questi obiettivi Per l'Abruzzo Saranno irraggiungibili Sempre sul messaggero Le pagine di Pescara Riaprire il corso E dirottare i bus Sull'area di risulta La proposta di Giampietro Condivisa dall'intero Gruppo PD Civitarese Tira dritto sul progetto Parola alla giuria Di cittadini Cuzzi Favorevole al doppio senso Per le auto private Tua comincia a luglio Dalla strada parco Poi vedremo Il resto E poi ancora Attenzione In comune Ma non è stata presa Nessuna decisione Pagnanelli Patto da rispettare Con gli elettori Di spalla Salta Il sorteggio Degli scrutatori Il Movimento 5 Stelle Accusa No Alla parentopoli Non ci sono i tempi tecnici Per applicare le nuove regole Sui nomi Decidono I consiglieri Avanti Siamo alla pagina Dove viene ricordato Ancora una volta Ed è il minimo Che si possa fare Per un personaggio Che ha Così Insomma Inciso E ha lasciato il segno In tanti di noi Lacrime e Aneddoti Per Bruno Pace Dal pranzo Dimenticato Con Lucio Dalla La difesa A Periscopio La grande famiglia Calcio ricorda L'ex giocatore E allenatore In obitorio Il lungo Pellegrinaggio Degli amici Pescara perde Un uomo Cordiale Dice il sindaco Marco Alessandrini E poi ancora Il rimpianto Di Pescara Per uno Sportivo amato I funerali Oggi alle 14.30 Come già ricordato Nella cattedrale Di San Cetteo E poi Di nuovo La cronaca Una famiglia Di spacciatori Arrestati Madre Figlio E nuora Osvaldo Di Rocco Era il capo Di un altro gruppo Rom Tenta di contendere Ai ciarelli La piazza Di Rancitelli Avanti Siamo sempre A Pescara La collina Dei veleni Coperta Dai teloni La protezione Delle discariche Tossiche Di bussi Destinata Ad avere Breve durata Con l'avvio Della bonifica Definitiva Dopo 11 anni E una svolta La sorte Di 9 ettari Delle aree inquinate 2A e 2B Decisiva La cessione Al comune Il sindaco Lagatta Rivendica L'impegno Dell'amministrazione Senza noi Niente appalto Evitiamo Mistificazioni E poi ancora In basso Doppie File E moto Sfreccianti I ciclisti Sfrattati Dalla pista Caos E pericolo In Viale Regina Margherita Soltanto il cordolo Potrà salvare L'esperimento Lavori a primavera Dice Civitarese Le bici costrette A percorrere La corsia normale O il marciapiede E siamo ora Le pagine Aquilane Ecco qui Vigili urbani In un anno Multe Per quasi Un milione La maggior parte Delle sanzioni 2.806 Sono relative Ai divetti Di sosta E di transito La mannette Annuncia Novità Sulla fermata Degli autobus Davanti All'hotel Amiternum 182 Le contravvenzioni Per occupazione Di stalli riservati E disabili 116 Per uso Del cellulare Alla guida E poi ancora Di spalla Soluzione Di Bertolaso Esulta Il centro Destra Forza Italia E l'Aquila Futura E un grande uomo Come pochi Al quale Tutta la città Deve E tantissimo Avanti ancora Museo Delle ceramiche Perché Non apre Si chiede Il messaggero Visita Del messaggero Nell'ex Convento Di San Domenico In cui C'è una struttura Espositiva Pronta Per l'attivazione Brocche Vasi Piatti Bacili Crogioli E persino Pipe In terracotta Emersi Durante i lavori Presisma Di restauro Dell'ex Regia Angioina E poi ancora Andiamo nella pagina Della Marsica Ecco qui Ad Avezzano Anatra Zoppa Città col fiato Sospeso Grande attesa Per la decisione Del Consiglio di Stato Dopo l'udienza di ieri A Roma A Piazza Capo di Ferro Il giudizio Dei due sfidanti De Angelis E Di Pangrazio L'attuale primo cittadino Sono Molto Ottimista I giudici Devono decidere Anche sul caso Del tutto Analogo Di Lecce In Puglia Allora A proposito Vediamo il servizio Oggi il Consiglio di Stato Probabilmente dirà L'ultima parola Sul destino Della maggioranza Di centrodestra Che sostiene Il sindaco Di Avezzano Gabriele De Angelis Avezzano Infatti Uno dei comuni Italiani In cui All'indomani Delle elezioni Amministrative Dello scorso anno Si è verificato Il raro fenomeno Della cosiddetta Anatrazoppa Cioè il caso In cui un sindaco Pur eletto A maggioranza Si trova a convivere Con un Consiglio comunale La cui maggioranza È rappresentata Da liste Che invece Avevano sostenuto Un diverso candidato A sindaco Con la sentenza Numero 417 Il Tarabruzzo Ha corretto La ripartizione Dei seggi In Consiglio comunale Fatta dalla Commissione elettorale Preseduta dal Presidente del Tribunale Eugenio Forgillo Cancellando così Buona parte Del verbale Di proclamazione Degli eletti In relazione All'assegnazione Del premio Di maggioranza E stabilendo L'assegnazione Di 13 seggi Di consigliere comunale Alle liste collegate A Giovanni Di Pangrazio Sindaco uscente Di centrosinistra E 9 seggi Alle liste collegate A Gabriele De Angelis Il primo cittadino Si dice sereno E conferma Se non potrò governare Andremo tutti a casa Accetterò Qualsiasi sentenza Da parte del Consiglio di Stato Sarà da me rispettata Poi quello che accadrà Il giorno dopo Lo vedremo Ma certo Non devo vivere Facendo il sindaco E facendo politica Quindi I cittadini Hanno voluto Che De Angelis Amministrasse questa città In una certa maniera Se sarà possibile Continueremo Se no Tutti a casa E tutti di nuovo Alle elezioni Gianluca Presutti Avvocato che difende L'ex sindaco di Avezzano Di Pangrazio Invece è convinto Della bontà Della sentenza del Tar Il 51% Dei cittadini di Avezzano Indiscutibilmente Hanno scelto La coalizione Che ha poi Che ha appoggiato Il sindaco di Pangrazio Secondo me A causa di un errore Tecnico Dal punto del Presidente Della Commissione Elettorale Questa realtà Democratica E politica Non è stata Rappresentata In Consiglio Comunale Una volta Che verrà Ripristinata La legalità Credo che tutti Dovranno fare i conti Non soltanto Con la legge Che già mi sembra Un valore Piuttosto rilevante Piuttosto forte Ma con la democrazia E con la politica Pagine di Chieti Del messaggero Ho fatto un macello Una cosa grave Tutto pieno di sangue Ecco i messaggi Del dentista Accusato di aver tentato Di uccidere la trans Il GIP convalida L'arresto Può ripetere Azioni simili Concessi i domiciliari Le chat Di Esposito Con due amici Ho menato Una prostituta Spero che non Mi denuncie Poi di spalla Un sacrario Dedicato Alla banda Palombaro Domenica Al cimitero Comune e Ampi Inaugurano La cappella Taraborrelli In basso Anziana morta In ospedale Investita sulle strisce Pedonali Le immagini Delle telecamere Incastrano Un automobilista Le indagini Della municipale E siamo a Vasto Per questo fatto Di cronaca Video hard Con l'amante A processo Rischia da 4 mesi A 6 anni Per aver mostrato Gli amici Il filmato Del suo rapporto Intimo Con la partner La donna Avrebbe scoperto La situazione Grazie agli amici Per il legale Della difesa Quelle immagini Non esistono E poi Secondo l'accusa È stato girato Con intento Estorsivo Per tenere in pugno La vittima Il giallo Di Monteodorisio Omicidio Lizzi Attesi Gli esperti Delle RIS L'assassino Avrebbe simulato La rapina A Monteodorisio Si stringe il cerchio La vittima Aperto La porta di casa Al killer Perché Lo conosceva E ora Nelle pagine Di Teramo Laboratori Del Gran Sasso Gli ambientalisti Rebus Autorizzazioni Mancanze Atti scaduti Viorazioni Della direttiva Seveso Gli accessi Agli atti Rivelerebbero Delle gravi Inadempienze Altre iniziative Le forme di protesta Per la tutela Dell'acqua Che sgorga Dalla montagna Per la politica Colonnella Standing ovation Per Salvini Il leader Vuole accanto a sé La Rassicci La giovane Candidata All'uninominale La Camera È stata acclamata Per il coraggio E infine A Giulianova Correzioni All'imposta Di soggiorno Il PD Vuole portare Il regolamento In aula Ma modificato Stessa linea Su cosa Appallestimento Dei decorrettari Tra le richieste Anche il bando Per gestire Le attività sportive E le iniziative Che possano sostenere Lo sviluppo Del turismo Lasciamo Il messaggero Abruzzo Ora Andiamo Sulla Città Quotidiano Della provincia Di Teramo E siamo subito A pagina 5 Nessuna Sicurezza Dentro i laboratori Gli ambientalisti Mostrano le carte Piani di emergenza Scaduti da anni O addirittura Mai approvati Le parole Di Augusto De Sanctis In una condizione Del genere Di diffuse inadempienze E omissioni Ci viene da sorridere Rispetto alla bellità Di proporre Nuovi esperimenti Come Sox E allora Vediamo Il servizio Violazioni Violazioni sistematiche Non conformità Piani scaduti Documenti sulla sicurezza Da riscrivere Da capo E lunghissimo L'elenco Delle criticità Emerse Durante ispezioni E valutazioni Del comitato Tecnico regionale Tutto ciò Emergerebbe Dalla documentazione Sulla sicurezza Dei laboratori Nazionali Di fisica nucleare Reperita Dagli attivisti Per la mobilitazione Per l'acqua Del gran sasso Presso i vigili Del fuoco Augusto De Sanctis Portavoce Del gruppo ambientalista Denuncia apertamente Il non rispetto Da anni Da parte Dei laboratori Di fisica nucleare Della direttiva Seveso Sulla prevenzione Degli incidenti Rilevanti In poche parole 2300 tonnellate Di sostanze Pericolose Sarebbero stoccate Irregolarmente Vicino alle captazioni Dell'acqua potabile I laboratori Di fisica nucleare Sono classificati Impianto A rischio Di incidente Rilevante Perché hanno Stoccato Nella montagna 2300 tonnellate Di sostanze Chimiche Pericolose Non lo potevano fare Peraltro perché La legge Fin dall'88 All'1988 Vieta Lo stoccaggio Di sostanze Chimiche Pericolose Vicino alle captazioni Degli acquedotti Questo dato Lo scoprite solo ora? Noi abbiamo fatto Accesso agli atti Peraltro Molto laborioso Perché non ci volevano Dare le carte Le abbiamo lette E adesso viene fuori Che il rapporto di sicurezza Non è stato mai approvato L'ultimo presentato Nel 2016 È stato esaminato Il 16 gennaio 2018 E i vigili del fuoco Hanno trovato Una serie di carenze Tali Che deve essere Riscritto Completamente E adesso cosa succede? Succede che c'è Un'irregolarità Che noi ovviamente Segneremo Alla procura Della Repubblica Integrando Altri esposti Che abbiamo fatto Anche per ulteriori situazioni Che ci sono A nostro avviso Che cosa chiedete? Chiediamo immediatamente L'allontanamento Delle sostanze chimiche Pericolose Che risolverebbe Questo problema Di approvare documenti Impossibili probabilmente Da approvare In quanto La condizione Di rischio È talmente alta Per la presenza Delle captazioni Drobotabbie E per la presenza Anche di faglie Attive Nel Gran Sasso E così risolveremo Allontanando Appunto Queste sostanze Come prevede La legge Gli attivisti Per la mobilitazione Per l'acqua Del Gran Sasso Chiedono ancora una volta Alla procura Di indagare E alla regione Abruzzo Proprietaria Delle captazioni idriche Di intimare I laboratori Di fisica nucleare L'allontanamento Definitivo Delle 2300 tonnellate Di sostanze tossiche Dal cuore della montagna Sempre sulla città Salvinia Colonnella L'Abruzzo Può fare la differenza Alle politiche Il leader della Lega Fa il pienone Lancia un'altra sfida Manderemo a casa Anche il PD Anche in regione Siccome si vincerà Magari si vincerà Di poco Continua Salvini Mi piacerebbe Che la scelta Degli abruzzesi Fosse fondamentale Per dare all'Italia Un governo Di centrodestra E a proposito Di centrodestra Ecco qui Abbiamo un progetto Per questa città Per Teramo Parlamento Comune Regione Quagliariello Punta a ricostruire Una classe dirigente Abruzzese Doppio appuntamento Domani il lancio Della campagna elettorale All'Aquila Domenica la presentazione Con Didalmazio Chiodi E Sottanelli A Teramo A Teramo E poi ancora Sportellato E poi travolto Da un mezzo Team Pedone Rischia la morte In Viale Crispi Una delle vie Cittadine più trafficate Eppure ancora Senza marcia a piedi In quel punto Viale Crispi Non è percorribile a piedi In sicurezza Sono entrambi i lati Occupati Dalla Sosta E poi ancora Cassato Ancora Il centro di fecondazione Assistita La regione fa le pulci All'atto aziendale Della ASRA Ecco le proposte promosse E quelle bocciate Avanti ancora Con le notizie Dalla provincia Lasciava la famiglia Senza soldi Ne cibo Parchettaio Cinquantenne Teramano A processo Con l'accusa Di maltrattamento E violenza Sessuale Il cinquantenne Spendeva al gioco Il denaro guadagnato Assieme alla moglie Picchiava la sua famiglia E la lasciava persino Senza vestiti Il tribunale Gli ha tolto La patria Potestà E poi ancora A Tortoreto Droga E armi In nove Vanno a processo Rimiete a giudizio Anche il carabiniere Il poliziotto Coinvolti Nel presunto Giro di spaccio In vibrata Uno degli imputati Ha deciso di patteggiare La pena a tre anni E sei mesi Davanti al giudice Umbriano E poi ancora Giulianova Cinque denunce Per il corteo anarchico Provvedimenti Della questura Dopo la manifestazione Del 14 ottobre Il questore di Teramo Ha emesso anche Quattro fogli di via A carico di alcuni Anarchici Non giuliesi E poi ancora A Silvi La tassa turistica Non piace a nessuno Critiche anche a Silvi Andava introdotta Dopo aver sistemato I problemi Parla anche L'ex assessore Rocchio Occorreva sentire Prima i diretti interessati Albergatori E agenzie turistiche E poi pagina 15 Dalla relazione Del MEF Spunta un esposto Nel Merino Il buco Da 1,9 milioni Del bilancio 2016 Minoranze furibonde Per il silenzio Del sindaco Le opposizioni Hanno saputo Dei rilievi Alla procura Per caso E ora Giurano vendette Colpi bassi In consiglio Passiamo Alla pagina Dello sport Della città Si parla chiaramente Di Teramo Che sfiderà domani sera La fermana Al Recchioni Con l'attacco di gennaio Per rompere il digiuno Con Gondò A fermo Dovrebbe partire Dall'inizio Panico Per trovare una vittoria esterna Che manca Da maggio Il tecnico Biancorosso Palladini Dovrà decidere Se confermare o meno Calore tra i pali Scalpi dalle sue spalle Bifulco Dubbio anche a sinistra Con Diallo Che rimonta Su Pietrantonio Peraltro Panico Convocato Con l'Italia Under 20 E poi in basso Sul fronte Fermana Lupoli E Doninelli Sono in dubbio Destro dovrebbe Confermare l'11 Sanzovini Dovrebbe partire Dalla panchina Da Silva titolare Il presidente Simoni Chiama a raccolta Il pubblico Di casa Rapidamente Anche uno Sguardo Alle tre Teste nazionali Alle loro Aperture Odierne La gazzetta Dello sport Giochiamo Con loro Chiaramente C'è l'inizio Dei giochi Invernali A Pyeongchang In Corea E quindi Questa è la pagina Dedicata Dalla gazzetta Dello sport Con le prime Competizioni Odierne Il Corriere Dello sport Incredibile Allegri Stasera L'anticipo Fiorentina Juventus Max festeggia 200 panchini In bianco nero Alla più alta percentuale Di vittorie Nella storia E poi Forza Azzurri Sotto la testata Scrive il Corriere Dello sport In vista appunto Dell'apertura Di giochi Olimpici Invernali Tutto sport Ecco l'apertura Fateli Viola Poi torno io Nel senso Di Bala Che è prossimo Al ritorno E poi Mazzari Che ben ricordi Belotti Porta in alto Il toro Le parole Di Edinson Cavani Attaccante Del Paris Saint Germain Ed ora Torniamo Sul Centro Le pagine Dello sport Del centro Con il doppio ex Federico Giampaolo Che presenta La gara di domani Pescara Salianitana Pescara Grande amore Un giorno Vorrei Tornare Dice L'attuale allenatore Dell'Avezzano Federico Giampaolo Delfino favorito In futuro Mi piacerebbe Allenarlo Secondo Bomber più prolifico Della storia del club Non ho mai dimenticato Questi colori Sono sempre stato La bestia nera Dei Campani E' cresciuto Con degli orossi Deglio Vero discepolo Di Zeman Il boemo Mi voleva A Foggia Ecco Federico Giampaolo In Maglia Pescara E qui In Maglia Salernitana Anche sul centro Un ritorno Sulla scomparsa Di Bruno Pace Il popolo Del calcio Ciao Bruno Pace Ci mancherà il tuo genio Sui social O di persona All'ospedale Tutti in fila Per salutare L'ex calciatore Allenatore Pescarese Morto mercoledì Di sera Tanti grandi Tanti grandi del calcio Lo hanno ricordato Tra questi Massimo Mauro Che è stato suo giocatore In particolare Al Catanzaro Poi Il ricordo anche Di Pasquale Luiso Ex Attaccante Del Pescara Tra le altre cose Il sindaco Marco Alessandrini Le parole anche Del DS Del Palermo Fabio Lupo Qui accanto A Bruno Pace Quando L'uno era Giocatore L'altro era Allenatore Del Chieti Serie C Sales Ci crede Il Teramo Affermo Può fare Il colpo Il difensore Carica in vista Dalla sfida Di domani sera Si ferma Amadio Portagirevole Bifulco Pronto al debutto Vediamo anche Rapidamente Il messaggero Le pagine Dello Sport Ecco qui Pescara Fiamozzi Punta I playoff Mi fa molto piacere Essere di nuovo qui Sono certo Di aver lasciato Bei ricordi E poi In basso I numeri Impietosi Il gol E il grande Problema In basso Federation Cup Cresce l'attesa Per Italia Spagna Da domani La sfida Al palatricale Tra le azzurre L'esperta Sarerani Questa mattina I sorteggi Al teatro E poi Per il rugby Di Serie A Neroverdi Al galoppo In vista del Cus Genova Ultimo giorno Di allenamento Prima del rompete Le righe I neroverdi Cercheranno Di recuperare I tanti Infortunati E poi Ancora Per la Serie C Teramo Gondò E Panico Per abbattere La fermana Di spalla Per il basket Di A2 E Sharks In due partite Si deciderà Il destino Dopo il K.O. Con Forlì Sarà fondamentale Il match Con Bergamo Poi ancora In basso Serie D Avezzano Con la San Giustese Bella prestazione E tre punti Nelle parole Del DG Iacovitti E poi Per l'unico derby Di giornata Derby tra Vastese E San Nicolò Le squadre Cercano Il riscatto L'Aquina Invece Attende Il Fabriano Ibe avverte Non sarà Facile Finiamo qui Questa nostra Rassegna Stampa Con questa edizione Odierna di mattino 6 Vi ricordo Gli appuntamenti Con il TG Le edizioni principali Delle ore 14 Delle ore 19 E delle ore 23 Io ringrazio In regia Silvia Gentile E ringrazio voi Per la cortese Attenzione Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti